Sono 18 le proposte progettuali ritenute ammesse alla fase successiva dell'iter del bilancio partecipativo 2021 stando al documento relativo ai verbali della Commissione, riunitasi nel corso di due sedute per valutare l'ammissibilità delle proposte progettuali pervenute entro i termini. Si precisa che il numero di proposte presentate è 23 e non 22. È stata pubblicata infatti il 22 febbraio sul sito del Comune di Caltanissetta un'integrazione rispetto all'avviso del 17 dello stesso mese, aggiornando il numero totale di proposte progettuali poiché per un problema tecnico una non era stata inserita nell'elenco. La Commissione dunque durante le due sedute, una a fine febbraio e un'altra i primi di marzo ha proceduto alla valutazione della fattibilità e pertinenza rispetto all'area tematica del programma di spesa prescelto dalla cittadinanza. Cinque le proposte considerate non ammesse e due invece ammesse con riserva. I progetti infatti in entrambi i casi vengono approvati, si legge, a condizione che all'interno dello stesso gli organizzatori provvedano a predisporre il piano di sicurezza in conformità alle normative vigenti. In totale dunque sono 18 le proposte progettuali ammesse per l'esattezza, due per l'area tematica sport, 13 per l'area cultura e tra queste le due ammesse con riserva e infine tre per l'area tematica cura e bellezza del centro storico. Grazie. 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 Grazie.